ecco vedete si dovrebbe incolonare così e qui 13 più 127 e da dove vi è venuto questo 161 infatti 140 comunque le cose che dicevo oggi no ma me le sono inventate le ho sentite al cinema in un cinegiornale si è fatto tardi vi accompagno a casa perché non mi va che andate in giro di notte da sola ecco così è più ordinato aiutavo mio padre nella contabilità avevamo un negozio di stoffe si è l'agrazione no